Papà papà papà! Che vuoi? Mi compri il gelatino? E quanta costa? Costa 3 euro! E allora non te lo prendi! E perché? Perché non tengo soldi! Uffa! Papà papà papà! Che vuoi? Mi compri il balloncino? E quanta costa? Costa 5 euro! E non te lo prendi! E perché? E perché non tengo soldi! E che palle! E allora? Papà papà papà! Che vuoi? E mi compri il dolcetto? E quanta costa? Costa 15 euro! E non te lo prendi! Ma perché? E perché non tengo soldi! E che palle! Ehi! Papà papà papà! Che vuoi? Ti fai ascoltare la Global Disco Chart! E che roba è? E la classifica dei 30 dischi più ballati della settimana! E quanta costa? Non costa niente! E allora ascolta la bocca! Ciao ragazzi! La Global Disco Chart! Classifica dei 30 dischi più ballati della settimana! Vi aspetta un new weekend! Su www.overshooterradio.net! E lo scuso! A quarta costa? Ma non costa niente! Gratis! Puro divertimento! Basta andare sul nostro sito! Che è sempre quello! Overshooterradio.net! Ragazzi! Mi raccomando! Cassa a palla! Senti il ritmo! Ah capisco!